Bene l'elogio ai dipendenti che in periodo di chiusura degli uffici al pubblico sono stati operativi per le urgenze continuando a lavorare in presenza, ma non dimentichiamo chi ha lavorato da casa, sostenendo anche delle spese per essere nelle condizioni di fare lo smart working. Il richiamo arriva da Michela Turchatti, segretario Funzione Pubblica della CGL di Sondrio, dopo il grazie rivolto da Barbara Dell'Erba, assessore al personale, politiche dei tempi, organizzazione pari opportunità del Comune di Sondrio, a quei dipendenti, ha dichiarato di recente l'esponente della Giunta Scaramellini, che hanno supportato il nostro impegno di assessori per garantire i servizi essenziali e promuovere le azioni, in una condivisione del lavoro quotidiano e degli obiettivi che ha permesso di rendere meno istituzionali i rapporti tra amministratori e dipendenti. Ci sembra doveroso però, osserva Turchatti, richiamare altresì all'attenzione dell'assessore che, oltre ai lavoratori che hanno prestato attività in presenza durante l'emergenza, in quanto individuati in relazione alle loro funzioni non effettuabili diversamente, la maggior parte dei dipendenti comunali, giustamente, hanno continuato a svolgere il lavoro ordinario da remoto. Per fare questo, che comporta la messa a disposizione di attrezzature hardware e software personali, nonché di forniture e spazi da non dare per scontati, aggiunge la sindacalista, molti dei dipendenti coinvolti in modalità di lavoro agile hanno dovuto integrare a loro spese le attrezzature o anche stipulare nuovi contratti adeguati per consentire il collegamento da remoto con la rete comunale. Fare lo sforzo, certamente salutale per loro e per l'ente, per cambiare il loro modo di lavorare, senza nessuna previsione di un rimborso forfettario delle maggiori spese sostenute, per far fronte ai maggiori consumi energetici e di utilizzo di proprie attrezzature informatiche. Turchatti menziona anche la rinuncia al servizio sostitutivo di mensa, che comunque, dice, costituisce una forma di integrazione salariale. Per questo sarebbe opportuno che i ringraziamenti venissero estesi a tutti i dipendenti e che i temi del lavoro agile vengano studiati e affrontati con serietà dall'ente, sia per evitare di trovarsi di nuovo in situazioni di improvvisazione, sia per non disperdere il tesoretto di innovazione maturato in questi mesi, per fare del lavoro agile, insomma, una modalità regolamentata e meno emergenziale.